Nel periodo di ferragosto l'arma dei carabinieri ha intensificato i servizi di controllo del territorio nelle zone a maggiore vocazione turistica, i cui presidi sono stati rinforzati secondo una pianificazione a livello nazionale anche mediante l'ausilio dei reparti speciali dell'arma. Questo serve a garantire una maggiore sicurezza dei tanti turisti come di chi ha deciso di rimanere a casa. È certo che, unitamente al nostro impegno, non mancheranno il senso di responsabilità e di collaborazione della cittadinanza sui quali siamo certi di poter fare affidamento.